Siamo con Alfonso, signorini, belli impossibili finalmente. Parli di me? Beh, anche prima lei, devo dire, affascinante, forse è un più importante essere affascinante. La bellezza, quali sono i canoni della bellezza del maschio italiano? Mamma mia, Platone già ci parlava e ci ragionava migliaia di anni fa. I canoni della bellezza, la bellezza secondo me non si può definire, non si può misurare, non si può quantificare.